Sal Da Vinci! Come stai? Benvenuti qua? Grazie! Eccoci! Eccoci! Benvenuto alla Fisica dell'Amore! Che bella cosa, no? Ti piace? Molto! Senti, Sal, innanzitutto diciamo questo, con la domanda di Rito, introduciamo te come studente. Che studente eri? Allora, partiamo dal presupposto che la mia vita è stata una vita un po' particolare, perché è iniziato per me un'avventura lavorativa all'età di sette anni. Quindi io sono stato catapultato su un palco, che è stato sempre, se vuoi, per me un gioco istintivo, perché io andavo a vedere mio padre in teatro, perché papà era un attore, il primo attore di una forma di spettacolo prettamente popolare, che era la sceneggiata napoletana, perché mio padre faceva il primo attore. Io, insieme ai miei fratelli, io mi infilavo sempre in mezzo, perché noi vedevamo poco papà. Io avevo all'incirca quattro anni e mezzo, cinque, perché io, essendo il quarto figlio, mi infilavo in mezzo, e quindi andavo sempre il sabato sera a trovare papà. E avevo questo desiderio, tutte le volte che andavo in teatro, di esibirmi a sette anni. Mio padre fu così lungimirante da debuttare in coppia con me, cambiando totalmente il genere della sceneggiata, quindi raccontare le storie. Ho iniziato a fare la primina e ho avuto sempre questa forma di apprendimento. Io non ho mai aperto un libro. Cioè io ascoltavo e ripetevo. Quindi sono arrivato direttamente, ho fatto un salto in seconda elementare. Fino alla terza elementare andava bene, perché riuscivo a gestire le cose. Poi il lavoro incalzava ancora di più e i miei genitori decisero di mettermi a scuola privata. Quindi io entravo alle dieci del mattino, all'una, all'una e un quarto, all'una e mezzo, con un panino in mano, scappavo in teatro e facevo tre spettacoli e tre varietà al giorno. Quindi tu in pratica eri fondamentalmente un bambino che lavorava già, cioè un bambino che non viveva quello che un bambino normalmente vive, la sua infanzia, i suoi primi anni. Sicuramente ho vissuto il mondo degli adulti troppo in fretta, perché io vedevo i miei amici del mio quartiere fare i bambini e io quella cosa non la potevo fare, perché ero troppo impegnato. Da un lato questa cosa mi portava un po' di tristezza, un po' di malinconia, dall'altro per l'era è una cosa che mi piaceva tanto fare. Certo. Ma tu comunque la scuola l'hai finita? Io mi fermai praticamente a questo secondo anno, però, secondo anno, uno deve andare a scuola, al di là della cultura della strada. Esatto. Cioè tu voleri concludere il percorso? Assolutamente. E l'hai fatto? L'ho fatto quando partecipai a Sanremo nel 2009. Ok. Avevi quanti anni? Che ne so. Non sono un bravo in matematica, ma ho 40 anni. Una quarantina d'anni, perfetto. No, non ho quarantino, 40 anni, sono nel 69. E allora, esattamente. Allora, a un certo punto, questa sfida, mi prendono a Sanremo, dico, ma adesso io vado a fare un festival. Cioè, ma è una cosa, quando finisco questi studi, tieni presente che io la notte studiavo e il giorno dopo c'era la mia esibizione. E naturalmente tutte le promozioni poi da fare. Ero un mezzo zombie. Lasciami dire questa cosa che è bellissima. Cioè, una persona che arriva a 40 anni in un posto che si chiama Sanremo, in un luogo culturale, musicale, che si chiama Festival, e che dice, sì, sto facendo questa cosa importantissima, ma devo completare gli studi. Devo completare gli studi. Cioè, il fatto che tu abbia voluto completare un ciclo e portare avanti questa sfida è bellissima. È molto, molto bella. È un bel messaggio che si lancia, perché si capisce quanto la cultura ci faccia scrivere cose belle. A proposito di canzoni e cose belle, il tuo disco, rossetto e caffè, è praticamente diventato disco di Platino in tre mesi. Stasera noi, guarda il tema, Sal, parliamo di magnetismo. Quanto è importante l'essere magnetici in musica? Quanto magnetica è una canzone di successo? La musica è magnetica per tutti quanti noi, è la nostra più grande amica e non ci chiede nulla in cambio. Quando spesso ci capita di dire, hai degli occhi magnetici? No, quella è l'anima che si presenta. Io credo che la nostra anima ha sicuramente un equilibrio magnetico. C'è qualcosa di la nostra energia. Noi siamo fatti di energia e di grande magnetismo. Esatto. Ma tu ti aspettavi questo successo, particolarmente per quanto riguarda le giovani generazioni, ragazzi? Tu sogni sempre nella vita, ma poi nella realtà dici ma proprio a me. Sì, è capitato, è capitato così. Se qualcuno mi avesse detto ma tu sai che Rozzetto Caffè diventerà un brano così virale da essere addirittura spinto nella global Spotify mondo. Un brano, uno dei pochissimi brani italiani che riesce ad entrare in una classifica così. Io avrei detto grazie e complimento, ci mancherebbe. Ma a me, cioè, ma perché poi a me? Anche perché, voglio dire, sono un uomo realizzato, ho realizzato tanti sogni e quello che ho sempre detto ai ragazzi, perché io mi sono sempre circondato dei ragazzi, forse perché mi tengo così e ragiono così, perché ho dato sempre opportunità a tutti, ai ragazzi che si trovavano alle prime armi e che magari erano stati anche un po' fregati e qualcuno li aveva presi in giro. Io ho preso sempre a cuore le storie e molti che ho invitato sul palco, in teatro, hanno iniziato a fare una carriera. Però questa è stata una bella... Bellissimo. Prima abbiamo detto una cosa a Sala, a proposito dell'esperimento. Per essere magnetici, per emettere il proprio campo magnetico, bisogna essere cariche in movimento. In un progetto come il tuo, quanto movimento c'è? Quanto bisogna essere carichi? Quanto bisogna spingere per realizzarlo veramente? Innanzitutto tu ci devi credere. Quella passione ti spinge anche. Ti spinge anche a fare meglio. Certo, non devi pensare all'avversità che ti girano intorno, altrimenti dei motivi... Che ci sono. Che ci sono, appunto. I ragazzi che rappresentano il nostro futuro forse probabilmente sono molto più preparati della nostra generazione, ma molto di più. Solo che noi facciamo un gravissimo errore. Ascoltiamo poco ai ragazzi. Questo è il grave errore che facciamo. Chiaro, chiaro. Tu sei di Napoli. Perché non si sente? No, no, guardiamo insieme questo filmato. Che cos'è la napoletanità? La napoletanità è la capacità di sdrammatizzare i problemi di tutti i giorni nei confronti dei grossi eventi della vita. Ora, questo può essere anche detto in maniera molto volgare, dicendo il pensare alla salute, ma non è così. È avere una scala dei valori più esatta, che tiene conto più dei valori affettivi che non di quelli connessi col potere o col denaro. L'essere napoletano a te ti ha aiutato? Assolutamente sì. Non ho mai scritto una musica lontano dalla mia città. Napoli è una rosa profumata, però devi fare attenzione alle spine. Disse il grande Lucio Dalla che il male e il bene convivono e a volte ti confondono. Senti, ma a proposito di magnetismo, tu sei attratto dal Festival di Sanremo 2025? Io sono stato attratto anche da quello del 24 e 23 e 22 perché è il Natale della musica dove naturalmente c'è questo momento sacro della musica italiana che arriva in tutte le case, passa di cuore in cuore, di bocca in bocca. E chi fa musica, chi ha un progetto, chi ha un messaggio da raccontare, crede che sia una vetrina importantissima. lì però si fa musica, qua si fa fisica.